I nostri demeriti, li analizzeremo, capiamo quello che dobbiamo fare, tramite il lavoro della settimana dobbiamo ripartire, però io credo che poi non è tanto un problema tecnico perché abbiamo dimostrato di poter fare grandissime partite, grandissime prestazioni, ci vuole qualcosa in più, in Serie B ci vuole qualcosa in più. Questa squadra quando si propone attacca bene, poi quando deve saper gestire, facciamo il discorso con Oddo, quello che oggi il Brescia ha fatto contro il Pescara doveva fare, per esempio contro lo Spezia, manca questo aspetto? Sì, ormai è una partita andata, sappiamo... In Serie B servono tutte le componenti? Certo, è un componente di sangue, di gattiveria, di saper stare in campo da squadra di Serie B, quello è quello che un pochino viene meno, il nostro piccolo grande difetto è quello lì, dobbiamo callarci un pochino più in questa realtà.